L'ottima, hola, oh ciao Lorenzo, eh, senti, questa volta, quando devi pagare internet, questo mese te lo pago io, e non dirmi di no perché hai fatto troppo per me questa volta, questa volta te lo pago io, aspetta che il 27 che mi arriva la pensione di cittadinanza te lo pago.